Ingredienti Dosi per 4 persone 500 grammi di lasagne Besciamella Zucchine Peperoni Carote Cipollotti freschi e olio Preparazione Ecco un'altra variazione della pasta al forno Sostituire al ragù o al condimento classico una besciamella con aggiunta di verdure Mettere zucchine Peperoni Carote e cipollotti freschi tagliati sottili e stufati con olio Otterrete una pasta al forno insolita Molto delicata ma gustosa Il piatto è pronto Buon appetito Buon appetito Buon appetito Buon appetito